ciao ragazze come state spero bene dunque questo nuovo video che criccio blog stavolta fatto in casa anche se non so se uscirò o meno però ci tengo a fare sto video con voi allora innanzitutto devo lavare i piatti e anche fare il mio letto quindi non so quante ci metterò e quanto diventerà a lungo ma spero che voi me lo guardiate tutto perché mi piace a me fare questi video così si scusate per la muso mi sono lo so per per la versione casalinga ma solo in casa e mi tocca fare le faccende perché non è che mi tocca mi piace fare le faccende quindi non vedo perché non devo farle allora ragazze stavolta telecamera non frontale ma posteriore perché vedo che si si vede bene e si capisce bene tutto quindi mettiamoci forse mettiamoci forse coraggio scusate un po l'impappilamento ma voglio fare video di questo genere a non solo make up o skin care ma anche perché no video come questi di pulizia e nulla adesso andiamo e facciamo questo video bello che non so quanto sarà bello ma mi piace mi fa tanta compagnia me le fate voi anche a me oltre far valere a voi voi le fate a me e nulla andiamo subito mi appoggio da una parte e ci vediamo dopo dai ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non so se vi porto con me perché non ne ho idea, però voglio portare un po' con me, vediamo se mi riesci di portarvi o se cambio idea. Vediamo, magari faccio delle piccole foto per Instagram di dove vado, ok? E comunque seguitemi su Instagram come youtuber melania-8 e basta, a dopo, dai. Troverò un modo dove mettervi, una posizione dove mettervi e speriamo che questo video vi piaccia, a dopo. Bene ragazzi, mi avete visto fare il letto, scusate se guardo di là ma per vedere se mi sto centrando nella telecamera o meno. Allora, io ho fatto il letto, ho fatto il letto, ho lavato il piatto eccetera, alcune parti le velocizerò, altrimenti diventa un lungo, ma veramente un video lungo, quindi non è il caso. Io ho deciso che devo fare così da qui in avanti, cerca di velocizerà un po' mentre non me lo guardate, quindi va bene così. Alla fine mi sta piacendo per questi video, li faccio perché ho molto 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 piacere. Ehm, per quanto riguarda adesso lo spolverare, gne 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 gne, non c'ho voglia, quindi non lo so, vediamo se spolverò o meno, vediamo, non ho idea, carazze mie. Ok dai, che faccio adesso, nulla di che, adesso giro la camma e registro da un altro lato, perché altrimenti viene solo male. Non posso registrare solo con le, come si chiama, con le, con le posteriore, e non vedete di quanto viene male, quindi a dopo. Ok ragazze belle, ci vediamo al ritorno dalla mia passeggiata, e nulla, ci vediamo al ritorno, perché, no se c'era una mosca solo le mani, però a te. Allora, mi sono truccata tutto quanto, si lo so, trucco orribile, ma non me ne sbatto un accidente, perché mi rompe sempre le palle, come haters sul mio canale, perché sapete che io caccello ogni commento che vedete, degli haters, non vostri uno degli altri, quelli che commentano fuori luogo, comunque va bene, non importa. Io adesso esco un po', se non piove, perché la giornata prende un po' così, e ci vediamo, si vedete la mosca, al mio ritorno, a dopo, ciao. Allora, e rieccomi qua, dunque, sono sì, lo so, mi faccio dire la pazza, ma non mi importa. Allora, sono appena rientrata dalla passeggiata, e nulla, tutto a posto, ho passeggiato un po', mi ho fatto un po' di, mi ho dato pensieri negativi e cose varie, e ora assomiglio, mi sento finalmente libera, non ti so come una foglia, ma quasi, perché non ce la facevo più, sinceramente, ero stanca, e se non gli ho detto, no, basta, prima che si blocco di tutto, mi faccio una passeggiata, e sono a posto con la mia coscienza, più o meno, niente, ragazze, era perché volevo un po', liberare un po' da troppi pensieri antipatici, e noiosi, e frustranti, quindi ho detto, perché non esco un po', e poi sono uscita, e dopo un po' rientrata, ho già presato, ho mangiato un riso buono, insalata, ho mangiato, cioè, ho bevuto un caffè, e poi ho mangiato un bel gelato, quello del mio, non ho fatto comunque bene, perché, ragazze, ero stampa, non avevo voglia, quindi, ve lo farò al prossimo giro, quando ve lo comprerò un altro gelato, se non è che, come un gelato della, dell'Eurospin, che è molto più buono, ma non importa, vabbè, quindi niente, ragazze, questo era tutto, io adesso vi lascio, e ci vediamo in un altro nuovo video, ciao, a presto, un bel like, iscrivetevi, attivate la campanella, e grazie a voi del supporto, ciao!